Ciao, bentornato al programma tv di oggi con notizie come. Il parrucchiere Federico Fashion Style è pronto per il suo tour in Puglia, toccando varie città della regione. Inoltre, potrete anche controllare i prezzi da capogiro di ogni singolo trattamento. Federico Fashion Style, conosciuto come il parrucchiere dei VIP, è pronto per cimentarsi in una nuova avventura. Armato di spazzole e phon, Federico Lauri è pronto a cambiare look a migliaia di donne. Armato dei suoi prodotti esclusivi e dalle spazzole e phon. Come è possibile vedere anche nel sito di Federico Fashion Style. Oltre alle date e alle città nelle quali la gente potrà vederli da vicino, sono stati indicati tutti i prezzi per i trattamenti richiesti. Quali sono le tappe in Puglia? Il tour di Federico Fashion Style è pronto ad entrare nel vivo come nel caso della regione Puglia. Il primo giorno di lavoro, vedrà Lauri andare a Brindisi, 23 giugno, Lecce, 24 giugno, Taranto, 25 giugno, Foggia, 26 maggio, il penultimo a Barletta, 27 giugno, e infine, Bari, 28 giugno. Prima che si inneschino delle polemiche sterili e senza un valido motivo, il parrucchiere ha voluto pubblicare sul suo sito internet, quali trattamenti potrà fare e il loro relativo costo. Inutile a dirsi, che rispetto ad altri negozi di parrucchieri, i suoi prezzi sono ben lievitati. Si parte da uno shampoo e piega a 30 euro. Mentre per fare il colore intero o altri trattamenti più incisivi, si va verso i 120 euro. Chissà se anche in questa occasione, qualcuno avrà da ridere. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Chissà se anche in questo video.